Come aumentare così gli FPS sul gioco Silent Hill 2 Remake? Ovviamente è possibile aumentare di parecchio gli FPS sul gioco attraverso i programmi di Nvidia e soprattutto anche facendo delle modifiche nel gioco. Quindi in questo caso vai direttamente in descrizione che ti ho lasciato così il link che ti porterà sulla pagina per scaricare il programma, il pannello di controllo di Nvidia. Se lo tieni già andiamo direttamente su Nvidia qua sopra, tasto destro sopra, pannello di controllo di Nvidia. Vai su gestisci le impostazioni 3D, impostazioni, programma, selezione un programma da personalizzare, fai aggiungi, vai su sfoglia e vai così nella cartella del gioco Silent Hill 2 fino a trovare questa applicazione qua che finisce come 64 shipping. L'applicazione che pesa più di 100 MB andiamo così a prendere l'applicazione ed eccola qua. Ora sul ridimensionamento immagine dobbiamo mettere disattivato perché se mettiamo attivato aumenterà la nitidezza, la qualità migliorerà però faremo pochi FPS. Facciamo ok. Questo qua della correzione gamma metti disattivato, quest'altro metti disattivato, anti-lasing trasparenza metti disattivato. Scendi fino a giù fino a trovare il filtro anisotropico e metti disattivato. O andiamo a mettere su disattivato oppure un 2x, metto disattivato. Filtro struttura, questo qua mettiamo consenti, ottimizzazione trilineare mettiamo attivato. Scendi fino a giù fino a trovare così la modalità bassa latenza mettiamo ultra. Modalità di gestione questo no, sincronizzazione verticale mettiamo disattivato, non bloccheremo gli FPS ma saranno illimitati. Tecnologia monitor compatibilità G-Sync, se il tuo monitor supporta una modalità G-Sync o FreeSync in base anche al monitor e alla scheda video che hai, velocità di aggiornamento preferita mettiamo la più elevata disponibile. Applica più volte ed eccolo qua. Ora regola le impostazioni dell'immagine, usa le impostazioni dell'immagine 3D avanzate oppure usa la mia preferenza mettendo in risalto. O metti qualità o metti prestazioni e facciamo applica. Una volta fatto non ci resta che avviare il gioco, ma prima di avviarlo vai direttamente a scrivere qua sopra grafica, impostazioni grafiche. Scendi fino a giù fino a trovare il gioco Silent Hill 2 ed eccolo qua. Devi inserirlo, quindi devi aggiungere un'app desktop, come ho detto devi entrare nella sua cartella e prendere quell'applicazione. E la aggiungiamo. Silent Hill 2 remake, preferenza scheda video, metti la tua scheda grafica qua sopra. Chiudiamo qua e ora entriamo direttamente nel gioco. Faccio prima proprietà, mostro attropazioni, compatibilità, disabilito ottimizzazione di schermo intero e abilito questa applicazione come amministratore. Grazie. In questo caso vado un attimo a mettere nuova partita, così andremo a impostare i settaggi direttamente quando vado a giocare. Quindi faccio nuova partita, faccio avvia partita. Ed eccoci qua. Quindi andiamo direttamente sulle impostazioni, display grafica, schermo intero, la mia risoluzione è full HD. Retracing ovviamente se voglio godermi una buona qualità sul gioco lo attivo, ma ovviamente se devo aumentare gli FPS metto off, illimitato, off, off. Sopra sempre questo qua, DSR, FSR, AMD, DLSS. Se disponi dell'FSR o DLSS, l'FSR sicuramente c'è sul gioco, DLSS dipende anche dalla scheda grafica, metto DLSS e metto ultra prestazioni. Preset qualità rendering, vado qua sopra, ed eccola qua. Qualità texture, shader, metto media, texture alta, ombre media, risoluzione lente, metto basso. Questo metto off, 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 qualità SS, off, uniditezza immagine, metto uniditezza media. Qualità effetti, metto media. Scalabilità, risoluzione, metto 75. Ed eccoli qua. Quindi siamo entrati con all'incirca 59-60 FPS, ora sono 100 FPS. Quindi, per altri problemi ancora, puoi commentare sotto al video. E noi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao. Grazie a tutti.